Musica Amici sportivi, appassionati di Pallamano, ben ritrovati, nuova puntata della Casa della Pallamano il format che settimana dopo settimana vi racconta le vicende della Pallamano Azzurra che fa base all'interno del Centro Tecnico Federale, la Casa della Pallamano a Chietiscalo ma che fa il punto anche sull'attività della Pallamano regionale, sulle squadre impegnate in Serie A2 sulle squadre impegnate in Serie B e anche sull'attività giovanile lo faremo in modo particolare nel corso della seconda fase la prima parte invece è dedicata soprattutto al Campus Italia e alle attività delle Nazionali Azzurre e quale ospite migliore se non il Direttore Tecnico Riccardo Trillini che saluto con grande piacere Grazie Matteo, saluto anche io, buongiorno a tutti È un periodo che è stato a cavallo tra le attività della Nazionale Under 18 Riccardo Trillini e il campionato del Campus Italia che sta per ripartire Tour de Force, tre partite adesso a partire da quella in programma domani nella Casa della Pallamano contro San Lazzaro Partiamo però da quello che è successo, partiamo dal campionato mediterraneo dell'Handball con la Nazionale Under 18, quindi ragazzi del Campus ma non solo chiuso al settimo posto, insomma un campionato mediterraneo che ci è servito a capire anche un pochettino, a disegnare un po' i contorni del lavoro che è stato fatto con questi ragazzi Sì, in effetti è stato veramente utile, possiamo dire alla fine che potevamo fare di meglio dal punto di vista della classifica, potevamo vincere qualche partita in più ma l'importante è stato confrontarci con delle nazionali forti e capire a che punto del cammino siamo Nelle convocazioni ho scelto particolarmente, ho dato una piccola preferenza ai giocatori del Campus perché volevo un po' anche approfittare del gioco che c'è in seno a questa squadra quindi era una nazionale formata prevalentemente dai ragazzi del Campus abbiamo visto con estrema onestà che alcuni devono ancora lavorare per competere a quel livello là ricordiamoci che il Campus non è la nazionale per cui i ragazzi sono qui anche per potersi formare in vista della loro carriera sportiva e ce ne saranno moltissimi che saranno pronti per gli europei di quest'estate altri che invece dovranno proseguire un po' il loro percorso di crescita Rimane un vantaggio competitivo ai fini degli europei e ai fini comunque in generale della crescita del movimento poter avere comunque una squadra federale che fa base a Chiede? Direi che diventa indispensabile perché abbiamo visto che da punto di vista fisico e tecnico ci sono squadre molto più avanti di noi per cui abbiamo questa fortuna di poter lavorare almeno su una decina di giocatori che faranno parte della nazionale e averli tutti i giorni e averli in competizione in campionato per poter poi provare quelle situazioni che ci potranno essere utili diventa indispensabile è la forza e la sola arma che possiamo noi mettere in più rispetto alle altre nazionali Si lavora anche per quanto riguarda il campionato intanto campionato che sta per ripartire nel prossimo fine settimana San Lazzaro, squadra bolognese farà visita proprio al Campus Italia al centro tecnico federale di Chieti domani alle ore 17 mercoledì poi la priva di due trasferte consecutive recupero sul campo dell'Ambra, formazione pratese, formazione toscana per completare questa serie di tour de force questa serie di partite contro il Camerano ancora in trasferta domenica prossima vediamo il servizio Il ritmo del Campus Italia è sempre alto Nemmeno il tempo di smaltire le fatiche del campionato mediterraneo giocato con la nazionale Under 18 è concluso al settimo posto sabato scorso ad Ankara in Turchia che per i talenti della squadra federale dietro l'angolo ce l'ha ripresa a ritmo elevatissimo del campionato di Serie A2 Il Covid e l'impegno in terra turca hanno scombustolato il calendario del Campus e chiamato ora a giocare tre partite in sette giorni nulla rispetto alle dieci gare in una settimana disputate ad Ankara questo è vero ma l'intensità della Serie A2 richiederà comunque uno sforzo notevole ai ragazzi di Riccardo Trillini si parte sabato dai bolognesi del San Lazzaro ospiti dalle 17 nella casa della Pallamano di Chieti match in diretta sulla pagina Facebook della FGH è indifferita alle 21 su Rete8 Sport pronostico incerto perché all'innegabile talento del Campus Italia si opporrà una squadra in grande forma reduce dalla vittoria del fine settimana scorso contro Teramo e che in organico annovera giocatori d'esperienza a partire dal 33enne mancino Giulio Venturi uno che ha vestito maglie di prim'ordine come Carpi, Fasano e Conversano step by step comunque anche guardando a ciò che ci sarà dopo e cioè una doppia trasferta col Campus Italia che già mercoledì 9 marzo recupererà la sfida sul campo dell'Ambra Prato per poi spostarsi nella fine settimana domenica 13 marzo in casa di Camerano tre match in rapida sequenza tutt'altro che semplici contro avversari affamate di punti Trillini rifarà la conta degli infortunati e dei disponibili con l'intento di tornare a vincere per cancellare la serie negativa di tre sconfitte con cui a inizio 2022 l'organico aveva riaperto il suo girone di ritorno in regular season un passo alla volta comunque senza farsi prendere dalla foga hai rifatto la conta di chi c'è e chi non c'è insomma vabbè gli infortunati pian piano stanno recuperando in particolare Capitano Medicina e Zanon si si stanno allenando quasi al 100% non possono gareggiare perché diciamo per estrema precauzione proprio che testimonia che il nostro obiettivo è quello di averceli nazionale quest'estate quindi non dobbiamo rischiare niente però si stanno allenando purtroppo in queste tre partite come hai citato non ci saranno però diciamo che hai anche accennato alle dieci partite delle MHC che hanno creato forse una stanchezza da certi punti di vista ma l'esperienza dei ragazzi che ne verrà fuori penso che sarà utile per queste partite sul campionato che effetti porta l'MHC il campionato mediterraneo perché nell'intervista poi che hai anche rilasciato a FIGH.it il sito della federazione hai detto ci siamo resi conto che per alcuni ragazzi forse ci può essere magari un cambio di ruolo qualche adattamento qualche insomma novità ecco che cosa ci dobbiamo aspettare in campionato ma questo è vero perché abbiamo visto che in nazionale occorrerà Virer nella posizione di alla destra in questo momento Virer ha sempre giocato terzino o addirittura centrale anche De Ruvo che può essere molto importante per non fare tanti cambi attacco o difesa dovrà giocare terzino destro anche se non è mancino ma ha fatto molto bene all'MHC ho visto che ha delle doti incredibili fisiche che potranno essere ben messe in campo nella posizione di destra alcune posizioni nuove difensive quindi sì useremo il campionato per questi piccoli adattamenti tre partite San Lazzaro, Ambre e Camerano due di queste sfuggite di poco nel girone di andata ma abbiamo visto che è un altro campus rispetto al girone di andata è un altro campus e quindi anche nella ripresa del campionato dopo la pausa abbiamo perso due partite di un punto solo è molto positivo questo perché i ragazzi devono giocare partite che si possono vincere e perdere dove ogni palla è importante dove non si possono sprecare palloni per estrema fretta e questo sarà determinante quindi ci aspettiamo altre tre partite sul filo di lana quindi speriamo che stavolta più uno, meno uno Assolutamente sì, vi ricordo l'appuntamento in particolare per la sfida delle weekend la sfida di domani contro il San Lazzaro squadra bolognese proveniente da San Lazzaro di Sabana appunto nelle vicinanze di Bologna gara che si giocherà alle 17 nella casa della Pallamano diretta Facebook sulla pagina della Federazione Italiana Gioco Handball e nel contempo poi a partire dalle 21 ci sarà la differita su Rete8 Sport dunque la possibilità di rivedere anche sui nostri canali la sfida tra il Campus Italia e la Tecnocem San Lazzaro cambiamo versante ma rimaniamo sul colore azzurro naturalmente che è quello che ci piace di più perché all'interno della casa della Pallamano è iniziato giovedì scorso il raduno della Nazionale Femminile il primo raduno sotto la guida tecnica del nuovo allenatore Giuseppe Tedesco c'è anche un abruzzese, si tratta dell'estremo difensore Sara Di Giugno Teramana in forza alla Cassa Rurale Pontini squadra che milita nella Serie A Beretta Femminile e siamo andati ad intervistare entrambi sia Beppe Tedesco sia Sara Di Giugno l'assaggio c'era già stato con le selezioni giovanili col primo percorso iniziato con le under 20 adesso si apre il ciclo targato anche Giuseppe Tedesco il nuovo staff tecnico della Nazionale Femminile a livello Signores è raggiunto un momento dopo 6-7 mesi che la Nazionale Signores non lavorava era normale che ci fosse questo primo preso di contatto col nuovo staff e io sono contento che la federazione mi abbia permesso di usare più di 26 persone per vedere un po' tutto il movimento e anche le ragazze che giocano all'estero come Irene, Fantonne, Angela Cappellaro oltre che Giulia Fabbo che conoscevamo già quindi grazie per questa opportunità ho fatto una full immersion da quando ho preso questo incarico ma era chiaramente molto meglio per me vederle sul campo e chiaramente dopo questo stage anche se ci sarà qualche entrata ancora per controllare ancora meglio diciamo il nostro panorama credo che avremo delle idee più chiare cosa che ogni staff tecnico deve avere per poter poi proseguire il percorso io sono stata scelta dal gruppo under 20 che ha vinto queste state gli europei di categoria per me è un grande onore far parte di questo gruppo senior la differenza si nota anche da un punto di vista tattico-tecnico perché appunto la qualità del gioco aumenta e anche in questo modo io posso aumentare la mia qualità grazie alle prestazioni delle mie giocatrici che mi insegneranno tante cose nuove ci sono però tra le giovani ragazze come te che stanno facendo esperienze importanti nel campionato di Serie A1 tu la stai facendo in particolare con la Cassa Rurale Pontina poi quando si torna a casa però quando si torna in Abruzzo è sempre bello sì esatto quando torno a casa è sempre un grande onore poi poter giocare in questo palazzetto che sta diventando il simbolo dell'Italia secondo me è ancora più bello perché appunto sto a casa mia e posso anche portare il mio sport, la mia passione qui nel mio territorio Riccardo Trilini ti riporto un po' agli eventi di queste settimane nella Casa della Palla a Mano ultimo modulo del corso di terzo livello il campus che è sempre lì, modulo il primo inaugurale del corso di secondo livello allenatori adesso la nazionale femminile è davvero la Casa della Palla a Mano non si può dire che siamo in affitto è proprio la nostra casa e quindi è un grandissimo passo avanti per la federazione perché poi organizzare questi eventi non è mai facile invece quando hai una struttura del genere poi una cosa viene dietro l'altra e penso che ne può soffrire bene la Palla a Mano Bruzzese perché ci sono molti contatti io vedo anche adesso che c'è la nazionale femminile ci sono dirigenti, allenatori sugli spalti anche nei corsi di livello io inviterei anche gli allenatori abruzzesi anche ad ascoltare quindi a volte si partecipano a seminari che si fanno chilometri o grandi impegni è facile venire sulle tribune di Chieti certo da direttore tecnico anche un parere su questa nazionale femminile 26 ragazze convocate che lavorano hanno iniziato adesso a lavorare con Beppe Tedesco che aveva già preso in mano le redini delle nazionali giovanili in particolare partecipando alle qualificazioni under 20 adesso inizia il ciclo della nazionale seniors che dovrà andare in particolare in primis ai giochi del Mediterraneo questa estate ma io allora innanzitutto questo raduno con 26 giocatrici è perché proprio Beppe Tedesco vuole conoscerle lo conosco molto bene per lui anche l'aspetto umano è fondamentale per cui non basta solo seguire le ragazze attraverso le partite online o dal vivo ma vederle, allenarle, parlarci per cui sta creando un po' l'ossatura della squadra e sono straconvinto che farà molto bene perché Beppe è un allenatore molto professionale attento ai dettagli e credo che nell'ambiente femminile questo faccia la differenza già in questa prima fase rimaniamo in tema di pallamano internazionale in qualche modo perché poi la nazionale azzurra è sempre chiamata a misurarsi con avversarie di oltre confine andiamo sull'altissimo livello però andiamo sul top del top perché la federazione mondiale proprio nei giorni scorsi ha rivelato i nomi dei migliori 5 giocatori candidati a vincere il premio di miglior giocatore del mondo migliore giocatrice del mondo vediamo nella clip quali sono i candidati quali sono le candidate Grazie a tutti 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 Visita al Prato, Fanalino di Coda, Pescara che va a caccia della seconda vittoria consecutiva, Campus Italia come detto che nella casa della Palamano gioca contro il San Lazzaro, Lions Teramo, Camerano infine alle ore 18 che si gioca invece al Pala San Nicolo di Teramo. Dicevamo del buon momento di Pescara che ritrova la vittoria, una vittoria che mancava ormai da troppe settimane per la squadra allenata da Michele Mastrangelo che adesso cerca punti importanti contro il Prato, abbiamo ascoltato proprio le impressioni del tecnico degli adriatici. Per noi, diciamo nelle condizioni in cui ci siamo cacciati, ci siamo posizionati un po' ogni partita è diventata fondamentale, ogni partita è una partita importantissima per noi, per cui sì assolutamente ha fatto morale, tanto morale la vittoria contro Bologna, ma non tanto, cioè è veramente l'atteggiamento giusto che c'è stato. Poi avevamo delle assenze importanti, le avremo anche per questo sabato, avremo quattro assenze, però nessun alibi, quindi la squadra sta bene, ci siamo allenati molto bene, ho fiducia, vedo della buona energia in squadra, per cui spero che riusciamo a fare il nostro gioco e portare a casa i punti. Beh, sinceramente sì, me l'aspettavo completamente diverso il campionato, cioè potevo aspettarmi chiaramente anche che il nostro campionato andava un po' diversamente, però è un campionato impegnativo, le squadre sono veramente tutte squadre valide, devo dire veramente la dodicesima non ha nulla da invidiare alla quinta classificata, tante volte i risultati sono tutti quanti, le partite finiscono tutte quante punto per punto, per cui questa è una cosa che mi ha sorpreso del campionato di quest'anno, sì, una classifica così corta e la terza classificata comunque fa fatica a battere anche quella che sta non a decima classificata, quindi da una parte rende il campionato molto interessante, avvincente, da un'altra parte non ti puoi distrarre un attimo, perché appena hai un calo di tensione o qualche infortunato di troppo e compromette una partita che magari sulla carta poteva essere quasi data per buona. Passiamo al versante femminile, come dicevamo in precedenza, Teramo si prepara ad affrontare il PDO Salerno con il vantaggio sicuramente della situazione di classifica, perché la formazione campana è all'ultima posizione della graduatoria, Teramo invece ha la possibilità adesso di allungare sulla retusa dopo aver vinto i due scontri diretti contro la formazione siciliana e noi in casa Teramo, grazie all'aiuto e al prezioso contributo di Matteo Falzon, siamo andati ad ascoltare le voci, le impressioni prima della sfida importante contro le campane. Devo dire che questa partita non sarà facile, perché comunque veniamo da un po' di giorni senza fare delle partite e ovviamente ci metteremo tutto l'impegno come sempre, come abbiamo fatto e spero di, come sperano tutte le altre, di portare comunque altri punti in casa. Con Salerno si evocano bei ricordi ma anche sfide storiche nel passato, si tratta adesso di due formazioni diverse, però è stata anche una finale scudetta. Sì, sì, è vero, comunque anche sentendo storie, vedendo tutte le partite come sempre, in casa, fuori, è una squadra che ci mette sempre tutto l'impegno e non mollano mai, infatti penso che questa sarà una partita molto tirata e spero che andrà tutto bene. Vincendo avete l'occasione di distanziare ulteriormente Siracusa che è il secondo posto in classifica, soprattutto di avvicinarvi di fatto al primo traguardo stagionale. Sì, è vero e ovviamente anche il Siracusa non è da sottovalutare perché comunque anche loro stanno vincendo sempre più partite e è una squadra che non mi dispiace, ho sempre ritenuto che loro fossero molto brave e spero soltanto che questi punti, ripeto, possiamo portarli in casa e distanziarci ancora di più. Nell'intervista a Lucrezia Di Giulio in casa a Nuova in Volteramo rimaniamo in ambito femminile ma passiamo per quello che riguarda il mondo dell'attività giovanile perché nella fotovoltaico semplice Youth League Under 20 è scesa in campo il Chieti con la sua formazione femminile-giovanile che ha giocato le gare di concentramento al Palapalumbo di Salerno. Non sono arrivate vittorie ma un'esperienza comunque importante di crescita e soprattutto Riccardo Trilini un po' gli effetti che dicevamo prima sul territorio della casa della Palamano il fatto che ci sia una squadra giovanile a Chieti, merito naturalmente anche della Palamano Chieti che sta facendo un gran lavoro sul territorio vediamo anche tanti bambini all'interno della casa della Palamano, insomma poi quando si passa lungo la strada e si vede il cartellone la casa della Palamano ecco un po' di richiamo inevitabile per la nostra posizione. Si sente un'unica famiglia e devo constatare che il Chieti è molto attivo nell'attività di riclutamento, nell'attività anche di allenamento ben ordinati, precisi, ogni squadra ha il loro allenatore e soprattutto tanti bambini perché soprattutto in questo periodo speriamo di post-Covid ma questo l'hanno avuto anche durante il Covid e le palestre sono piene quindi basta solo aspettare e lavorare bene bene, adesso questa squadra femminile che io la vedo sempre allenarsi dopo di noi è composta da ragazze molto appassionate alcune anche talentuose, è così che deve essere... Tifose del campus? Si, tifose del campus e per loro penso che la presenza del campus, dei ragazzi del campus ma anche delle nazionali è sempre uno stimolo a emulare un po' quello che sono i migliori diciamo così. Senza dubbio ed è questo l'obiettivo principale, si gioca in Serie B, si gioca per la verità una sola partita perché Lions Teramo capolista affronta il Cingoli in una classifica che sta prendendo forma in chiave playoff, vediamo A 5 giornate dal termine della regular season, il playoff promozione sullo sfondo nel girone Abruzzo Marche di Serie B è tempo di ipotizzare scenari, situazioni possibili, evoluzioni future, diciamolo subito, nel fine settimana si gioca un solo match quello tra Lions Teramo e Cingoli che oltre a completare la tredicesima giornata servirà a chiarire il percorso dei biancorossi allenati da settimio ma sotto in qualità di battistrada del raggruppamento Teramo fin qui ha sempre vinto e spera domenica di allungare nuovamente a più 4 rispetto alla Monteprandone ovvero la prima fra le inseguitrici. Il corso regolare del campionato ripartirà a metà marzo ma come detto il turno andato agli archivi nella fine settimana scorso ha restituito una fotografia abbastanza chiara della rush finale. Il 40-28 del Città Sant'Angelo al Chiaravalle ha contribuito all'allungo degli Orange al terzo posto. Ora la distanza con Cingoli è con la quarta posizione di ben 9 lunghezze difficilmente colmabili da qui a fine campionato. Insomma l'impressione è che le prime tre Teramo, Monteprandone e Città Sant'Angelo giocheranno da qui alla fine un campionato a sé stante mentre resta da assegnare il quarto posto in chiave playoff e lì Cussancona, Falconara e Chieti strepitano tutte a 8 punti. Bravi in particolare i teatini a fare loro il derby contro l'Handball Club Pescara 26-20 nella weekend scorso nella casa della Pallamano anche se ora per i ragazzi di coach Alessio Savini la prova del 9 e la trasferta ad ancora del 12 marzo da preparare con estrema attenzione. Nota a margine quello sarà anche il weekend di Monteprandone Teramo scontro al vertice che promette scintille. Vediamo in rapida sequenza anche classifica e prossimo turno un prossimo turno ibrido perché abbiamo anche ovviamente i risultati del campionato di Serie B si gioca una sola partita come detto che completa la giornata questa è la classifica Teramo ha la possibilità di staccare Monteprandone di portarsi ancora una volta a più 4 in una classifica che è spaccata in due perché tra Città Sant'Angelo e Cingoli anche se Cingoli in questo momento ha tre partite in meno ci sono nove punti di differenza ricordiamo che le prime 4 giocano i playoff per un solo posto nel campionato di Serie 2 del prossimo anno prossimo turno in grafica in realtà come dicevamo c'è solo Teramo cingoli da giocare perché le altre gare Chieti-Pescara 26-20, Città Sant'Angelo-Ciaravalle 40-28 e Falconara-Ancona 23-28 sono già state disputate nello scorso fine settimana. La prossima settimana nuovo appuntamento con la casa della Pallamano noi nel frattempo siamo in chiusura ringrazio Riccardo Trillini grazie a te grazie anche ad Andrea Di Fabio per il prezioso contributo come sempre in regia la casa della Pallamano torna la settimana prossima su Rete8 Sport buona Pallamano a tutti Grazie a tutti